Spero ci sia un passaggio. Ce l'hessimo vista brutta. Lo so. E' lì. Le maschere! E sacciamo la stazione! Maledizione! Allora... Alla fine sono gli eneo intrusi. Sei sorda? Joe attenzione! Riker, state attenti. Perché tanto casino per te, intrusi? Negli eneo hanno massacrato una squadra. Perché non le lasciamo qui? Ci penseranno gli infetti. Hanno ucciso Mark. Ecco perché. Anche Jordan è morto. Ah, poca puttana! Ma cosa è stato? Merda, qual faccia gli ha fatto di cazzare? No! Abbiamo anche delle intro... No! No! Sì, non troppi! Mura merda! Varga! No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no.